Quando una persona non ringrazia, che cosa ha dentro? Non ha la gratitudine nel cuore, non ha un cuore educato alla gratitudine, non ha o non è stato o non ha ricevuto amore nella sua vita, è verissimo. E la mancanza di amore crea una malattia mortale per l'uomo, una malattia mortale per lo stesso cuore, ancora più forte di un infarto, cioè la sclerocardia, quello che Papa Francesco più volte ci ha ricordato, la durezza del cuore. Quando noi siamo duri, rigidi con noi stessi e con gli altri, noi siamo malati di sclerocardia, noi non riusciamo a dire grazie, semmai pretendiamo che gli altri debbono venirci a ringraziare. Sì è umano, e poi diremo qualcosa semmai nelle prossime puntate, di quando io faccio del bene e poi non mi vedo venire a ringraziare. E' successo anche a Gesù, Gesù lo ha detto in una parabola, dei dieci lebrosi guariti, dei dieci guariti solo uno è tornato indietro a ringraziarlo. Ma la mia riflessione vuole fare altro, vuole dire altro oggi a proposito di questa sclerocardia, di questa durezza del cuore che nasce dalla nostra incapacità di dire grazie, ma anche dalla nostra mancanza di volontà a poter guarire attraverso la lode, il ringraziamento. Vedete che cosa diceva Padre Pio a proposito del ringraziamento? Diceva che il ringraziamento ci dona vista e uditi nuovi per ricominciare ogni giorno ad amare, a sognare, a vivere. Un cuore grato ci dona vista, capacità di vedere e di ascoltare per ricominciare ogni giorno la nostra vita, per amare, a sognare e quindi per vivere. Amare, amare, sognare e vivere. Sono un tutt'uno della nostra vita e un amore vero, un sognare bello, autentico, un sognare che non sia un incubo, un vivere pieno di amore per amore, una vita che sia dono, nasce appunto dalla capacità di avere un cuore nuovo che mi fa vedere la vita in maniera diversa. Se io non ho un cuore nuovo, un cuore capace di vedere le grandi cose, nelle piccole cose, di ringraziare e di dire grazie dal più profondo del cuore, se non ho questo non potrò mai amare, mai sognare e mai vivere. Se non ho un cuore pieno di gratitudine non potrò ascoltare l'altro. E anche quando tutto sembra il contrario, ascoltando l'altro, nel mio cuore ringrazio Dio, ma anche l'altro che semmai è venuto a ringraziare me. È bello molte volte quando tu ti avvicini a una persona e dici grazie per quello che hai fatto, per quello che hai detto, per quello che fai, e l'altro risponde no, grazie a te, grazie a te che sei qui, grazie a te perché mi hai detto grazie. Vedete come il rendimento di grazie, un cuore che è capace di lodare Dio e anche capace di ringraziare gli uomini, è un cuore aperto, è un cuore privo di invidie, è privo di gelosie, è un cuore privo di sentimenti di rabbia contro gli altri. E laddove nel cuore c'è la rabbia, laddove nel cuore c'è la rigidità, non c'è la gratitudine e non c'è la possibilità di dire grazie a Dio e grazie a te. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.